Buon pomeriggio a tutte e a tutti. Mi presento, sono Maria Cristina Scalabrini e sono la responsabile della redazione della scuola primaria di Mondador Education. Vi ringrazio per essere qui a partecipare a questo webinar di presentazione del nostro progetto dell'insegnamento della religione cattolica, la Valle del Cedro. Prima di cominciare ed entrare nel vivo di questo incontro vi lascio alcune informazioni di servizio. Eccole qui. Allora, l'attestato di partecipazione sarà disponibile su mondadorieducation.it slash attestati entro una settimana lavorativa dal termine di questo evento. L'attestato sarà disponibile per i partecipanti che avranno effettuato l'accesso dalla mail di iscrizione entro le 23.59 di oggi. Quindi potete vederlo in diretta e potete vederlo in diretta fino a stasera per ricevere l'attestato. È molto importante però che voi siate entrati con la mail con la quale vi siete registrati perché altrimenti purtroppo non ci sarà la possibilità di avere l'attestato. Il video resterà disponibile sul nostro canale YouTube, lo potrete rivedere a qualsiasi momento e al termine dell'evento riceverete le slide della presentazione di oggi e altri materiali che abbiamo preparato per voi. le troverete nella pagina dedicata a mondadori.it slash materiali, i tuoi eventi, sì, scusate. Quindi a questo punto ci aspettiamo da voi delle domande, per ogni vostra curiosità potete utilizzare la pagina tua domanda.it indicando il codice vento 7729 oppure potete anche inquadrare facilmente con il telefono il QR e vi rimanda direttamente a quella pagina. Ovviamente cercheremo anche di rispondere alle domande che arriveranno sulla pagina di YouTube. Io presento i miei ospiti di oggi e che chiamo in presenza così accanto a me. Ecco, ecco. Abbiamo le nostre due carissime autrici, Caterina Basile Carragliocchi, benvenute. Buonasera. E poi abbiamo Nicola Barzagli. Buonasera. Nicola chiuderà la presentazione di oggi mostrando a voi insegnanti i materiali digitali di questo libro. Vedrete che ci troveremo delle bellissime sorprese perché le magie che riescono a fare i colleghi del multimediale lasciano stupiti anche noi e quindi spero veramente che siano dei materiali utili per coinvolgere la vostra classe e dare delle opportunità aggiuntive per lavorare insieme ai bambini e le bambine con l'entusiasmo che caratterizza voi insegnanti. Quindi io direi che rimando nel backstage i miei ospiti e ci vediamo più avanti. Ecco, quindi presentiamo oggi la Valle del Cedro. Allora, questi primi dieci minuti le dedicherò proprio a spiegarvi come è strutturato il libro e poi sentiremo dalla viva voce delle autrici gli approfondimenti di alcuni temi che sicuramente a voi sono cari. Come è organizzato il libro? Allora abbiamo scelto di fare una divisione per classe, quindi una classe per ogni, un libro per ogni classe e ogni classe contiene tutto. Quindi in ogni classe troverete tutti i materiali che servono per svolgere il lavoro in quell'anno. La classe prima ha 120 pagine, la seconda 120, la terza 120 e nel secondo ciclo abbiamo invece 144 pagine per la classe quarta e 144 pagine per la classe quinta. Il progetto didattico è molto ben spiegato nelle alette del libro, se non l'avete ancora ricevuto chiedete al vostro rappresentante o andate in sala insegnanti a cercarlo e qua troverete i punti di forza importanti di questo libro e soprattutto anche la spiegazione del titolo. Abbiamo tenuto molto a mettervela perché queste autrici sono famose per i loro titoli molto evocativi e che hanno grandissimo impatto proprio a livello di contenuto ma anche emotivo. Il titolo richiama un passo biblico di Ezechiele che è la meta ideale a cui secondo noi voi, tutti voi insegnanti, volete tendere, cioè il promuovere il cuna luna e luna e il successo formativo dell'intera classe perché proprio lo spirito è quello di metterà rami e avrà i suoi frutti ed entrerà un magnifico cedro e alla sua ombra si riposeranno gli uccelli. Quindi è proprio un'idea fortissima di accoglienza. Vediamo, vi ho detto che abbiamo un libro per ogni classe che contiene tutto e vediamo qui ad esempio l'indice di classe prima, in ogni anno troviamo le prime pagine che sono dedicate all'accoglienza, ovviamente in classe prima sono più corpose, le pagine di educazione civica, le pagine di profilo, le pagine di eserciziario e poi concludiamo con le pagine dedicate all'attività creative. Nell'indice trovate anche il riferimento a questa nuova app che abbiamo preparato per voi insegnanti dove abbiamo una lettura d'opera di più di cento opere di arte religiosa per esplorare attraverso video e immagini interattive i significati più interessanti delle opere d'arte. I bambini sono i protagonisti, i bambini sono una piccola classe multietnica, multireligiosa e multiculturale, cresce insieme ai nostri bambini della classe prima alla classe quarta, dando la possibilità ai bambini che avete in classe di identificarsi in uno qualunque di questi piccoli alunni. Quindi abbiamo detto che abbiamo l'accoglienza, l'accoglienza appunto in classe prima è molto sviluppata, è un'unità intera e però sempre anche nelle classi successivi abbiamo da quattro pagine, almeno quattro pagine per l'accertamento dei prerequisiti della classe precedente. Abbiamo tantissima interdisciplinarietà, elemento caratteristico di queste autrici è proprio quello di lavorare affinché voi possiate collaborare con l'intero consiglio di classe, quindi al piede trovate sempre i riferimenti alle materie coinvolte che possono essere ovviamente arte, musica, ma storia, geografia, scienze e in particolare abbiamo un grande, grande, grandissima attenzione all'arte, cosa che è anche questa tipica delle nostre autrici, anzi posso dire con soddisfazione che lavoro con queste autrici da tanti, tanti anni e sono state le prime a proporre all'interno dei volumi di insegnamento della religione cattolica i percorsi artistici perché pensano veramente che questo sia un linguaggio universale. Quindi abbiamo proprio le opere d'arte che accompagnano il percorso didattico e che hanno anche tantissime attività nella parte dedicata al quaderno o le pagine operative. Come vi avevo fatto vedere nell'indice, l'educazione civica è integrata, cioè non abbiamo un quaderno a parte o materiali separati che utilizziamo, dobbiamo andare a capire quando utilizzare, ma quando proprio il percorso lo permette e anzi lo invita, abbiamo subito le pagine dedicate a questo argomento. Le pagine di educazione civica, ce ne parlerà più in dettaglio poi Caterina Basile, sono di due tipologie, quelle magenta che si chiamano proprio l'ombra del cedro e poi quelle azzurre che sono invece chiamate sulla via del cedro. Come sempre vedete che sono anche indicati materiali digitali che accompagnano tutti i percorsi e che aumentano la possibilità di interazione e di suggestioni per la classe. Tantissima attenzione data all'intercultura. Anche qui le autrici sono molto fiera di questo, sono state tra le primissime a occuparsi di questo tema. Negli anni abbiamo fatto anche dei quaderni appositi dedicati a questo tema, ma proprio nell'ottica della semplificazione dell'uso dei materiali, abbiamo voluto che questi percorsi interculturali siano inseriti all'interno del libro. Quindi questa inclusione è a 360 gradi perché il testo vuole accogliere tutte le diversità che sono considerate assolutamente una ricchezza, quindi intercultura, comunismo, multireligiosità. Lo studio delle religioni ha spazio sin dalla classe prima. A conclusione dei percorsi, sempre nell'ottica dell'inclusione, abbiamo mappe facilitanti o schemi a seconda della classe e nel libro digitale vostro dedicato agli insegnanti troverete anche le soluzioni di queste mappe e poi anche delle verifiche. Ma anche qui vedete un QR perché le mappe sono modificabili e semplificabili nel caso abbiate bisogno di personalizzare il percorso per bambini che hanno ulteriori difficoltà. Le verifiche sono proposte su due livelli, un primo livello rosso che è una verifica facilitata che va bene per tutti anche come diciamo un po' avvio della verifica pre-verifica e poi la verifica vera e propria, anche questa presentata con soluzioni per gli insegnanti nel libro digitale. Le pagine di verifica sono anche interattive per gli alunni. Potete, diciamo, se lo ritenete opportuno, metterle sulla limme ed eseguire poi la correzione tutti insieme. Un tema molto molto caro alle nostre autrici è la ricostruzione storica curata. Ci teniamo a farvi vedere questa pagina perché secondo me è di grandissimo impatto ed è una soluzione a volo d'uccello per vedere proprio come è una ricostruzione storica. Vedete, abbiamo utilizzato un'illustratrice che si occupa di sussidiari proprio per dare il senso della realtà storica dell'epoca passata. Abbiamo voluto che anche in questo caso l'insegnamento della religione cattolica avesse la stessa curatezza, la stessa dignità di un sussidiario. E alla fine dei volumi troviamo le attività creative. Quindi, lo ripeto, un volume con ogni cosa. I materiali integrati di profilo, di esercizi, di educazione civica, di verifiche e, a fine volume, le attività creative. Perché abbiamo fatto questa scelta? Perché abbiamo consultato tantissimi insegnanti attraverso gli agenti ma anche con appositi focus group e ci hanno tutti detto che i bambini hanno difficoltà soprattutto in classe prima a orientarsi nella quantità, nella moltitudine dei volumi. E quindi abbiamo pensato di lavorare per la semplificazione. I volumi sono molto ricchi perché avete visto anche la fogliazione e non siamo scesi da questo punto di vista ma abbiamo voluto racchiudere per semplificare la vostra vita e la vita dei vostri alunni mettendo tutto insieme in un unico volume. Ora, io diciamo che vorrei passare la parola a una delle mie autrici, Carla Gliocchi. Eccoci qui. Carla, è una buona gioia di averti con te e vorrei che Carla chiarisse con molta determinazione il perché di alcune scelte che abbiamo fatto per allineare il curriculum di storia quindi con il curriculum dell'IRC. So che questo è un tema a cui i rappresentanti spesso si scontrano perché molti di voi pensano che alcune scelte che facciamo noi editori siano un po' diverse dai programmi di IRC e allora adesso io veramente chiedo a Carla con tutta la sua competenza di fare una chiacchierata in diretta con voi su questo tema. Vai Carla, a te la parola. Sì, grazie. Grazie Cristina. Sì, ecco, noi vorremmo veramente, io brevemente vorrei condividere con voi alcune riflessioni sulla motivazione per cui insistiamo moltissimo su questo allineamento tra il curriculum di religione e il curriculum di storia che peraltro abbiamo rafforzato in questo nuovo lavoro. È fondamentale, cioè non possiamo disattendere questa opportunità di entrare in dialogo principalmente con la disciplina storia ma come faceva presente anche prima Cristina un po' con tutte le discipline del curriculum la religione ha questa potenzialità perché noi abbiamo una pluralità di collegamenti veramente con tutti, con tutti gli altri saperi che vengono presentati a scuola ai bambini. Questo consente da un lato sicuramente di far sì che la religione si esprima con la stessa dignità di ogni altra disciplina in quanto abbiamo la possibilità attraverso il nostro curriculum di incidere in maniera rilevante sulla formazione dei bambini ma per far questo noi non dobbiamo viaggiare in parallelo rispetto alle altre discipline. E quindi l'allineamento alla storia allora c'è un aspetto, ecco, legato al nostro anche ruolo di insegnante e al valore della disciplina nella scuola. Poi c'è un aspetto fondamentale che è quello dell'apprendimento dell'alunno. Come facciamo a presentare questi personaggi spesso lontanissimi nel tempo che sono una ricchezza del nostro, del testo biblico come facciamo a disancorarli da un contesto storico, geografico da un'idea di mondo, di mondo del passato cioè parlarne senza alcun riferimento a un'ambientazione, a un vissuto, a un pensiero anche alla semplicità di questi popoli antichi della Mesopotamia vuol dire non fornire ai bambini delle adeguate chiavi di lettura e di interpretazione di questi personaggi quindi far sì che rimancano nel loro apprendimento sicuramente loro sono coinvolti, entusiasti gli piace sentir parlare di Abramo, Isacco, Giacobbe sono storie avvincenti ma se li disancoriamo completamente da ogni riferimento alla disciplina storica noi andiamo a alimentare quel pensiero fantastico purtroppo a volte un po' magico che è proprio dei bambini di queste fasce di età così piccoli e questo noi non lo vogliamo i nostri racconti sono racconti storici, verosimili e quindi dobbiamo creare un allineamento molto forte con la storia che come appunto vi dicevo abbiamo rafforzato in questo nuovo lavoro quindi nella classe terza troviamo sempre la nascita della religione quindi le prime forme di religiosità degli uomini primitivi e poi proseguiamo sempre in classe terza proprio in questa prospettiva di nascita della religione andiamo a parlare dei personaggi che hanno determinato la nascita di questa grande civiltà che è l'ebraismo grande da un punto di vista religioso e quindi li presentiamo Abramo, Isacco, Giacobbe arriviamo alla storia di Giuseppe forse qui siamo anche in linea con quel percorso che viene definito tradizionale ma che in realtà cioè dal nostro punto di vista e vorremmo che voi condivideste questo capendo appunto ascoltando le ragioni, le riflessioni che abbiamo così messo alla base della nostra nuova impostazione più rafforzata dal punto di vista dell'allineamento alla storia e che appunto è presentare questi personaggi in un percorso apparentemente tradizionale che poi però si ferma alla storia di Giuseppe senza creare una discontinuità poi ora vi mostreremo nella prossima slide in che modo e riprendiamo in quarta presentando la storia di Mosè ecco questa è la pagina che si trova nel libro nella classe quarta che è la pagina che serve proprio per aiutare i bambini a fare una sintesi degli apprendimenti che hanno eseguito che hanno maturato nell'anno precedente quindi in classe terza è una pagina proprio che è offerta alla loro memoria affinché immediatamente con queste abbiamo privilegiato qui come vedete le illustrazioni perché sono di grande impatto sui bambini e hanno un richiamo immediato dei contenuti si appassionano sappiamo a queste figure i nostri alunni e quindi guardando queste immagini in un modo molto immediato ricostruiscono le prime tappe della storia della salvezza appunto che rimandano alle figure principali del popolo di Israele una volta che hanno letto questa immagine in fondo al testo dove c'è tutta la parte delle attività creative che vi è stata illustrata prima trovano ulteriori immagini da andare a incollare che vedete qui al lato su questa pagina con lo sfondo azzurrino e andranno ad incollarle e quindi anche queste immagini dove troveranno dei fumetti delle didascalie andranno a contribuire a questo recupero della loro memoria dei loro apprendimenti si tratta tra l'altro di elementi da incollare che si aprono al libretto quindi sul retro ci sono poi dei testi riassuntivi dopo tutto questo lavoro di recupero degli apprendimenti i bambini che tra l'altro favoriscono anche proprio un apprendimento più stabile e duraturo del percorso che abbiamo fatto in terza i bambini saranno ben pronti per affrontare perché avranno dei prerequisiti adeguati e soliti la figura di Mosè la storia di Mosè quindi questa storia così centrale non solo nella religione cristiana perché sappiamo che è di grande rilevanza e importanza insomma siete insegnanti di religione quindi lo sapete quanto me non mi soffermo su questo aspetto ma sicuramente è di fondamentale importanza anche per l'ebraismo e proprio per insomma la nostra attenzione anche al rapporto con le altre religioni perché nei momenti in cui noi ci troviamo a vestire i panni degli autori e ad affrontare queste grandi figure che sono appunto figure centrali di un altro credo e cerchiamo di assumere anche la loro prospettiva e di presentarle nel rispetto anche del sentimento di fede anche di quegli alunni magari non avvalente ma di religione ebraica che possono essere presenti nelle nostre scuole o che comunque sono presenti nella nostra società allora e quindi qui in quarta riteniamo che Mosè si possa presentare in un modo più adeguato guardate anche solo la corposità dei testi e queste non sono le uniche pagine che abbiamo quindi è molto ampio il discorso è completo la figura è una figura centrale in classe quarta non arriva dopo altri personaggi e quindi a volte abbiamo dei tempi didattici in terzo un po' affannosi perché questo famoso percorso tradizionale ovviamente lo abbiamo svolto anche noi siamo nella scuola io personalmente da 27 anni quindi lo conosco bene il percorso tradizionale ma conosco anche i vecchi programmi di storia perdonatemi il vecchio curriculum di storia e quindi qui in questo caso vi dicevo la figura di Mosè viene rispettata anche da un punto di vista secondo noi della sensibilità ebraica perché è trattato in un modo diffuso in un modo molto storico e c'è un collegamento diretto con la storia perché se noi abbiamo un qualunque libro di storia non possiamo che vedere che la storia entra in un dialogo forte aperto con la religione lo apriamo e troviamo la Torah non l'apriamo e troviamo il Tempio di Gerusalemme e troviamo Mosè scritto in grassetto evidenziato e è una parte importante nel testo di storia allora tutto questo ancoraggio alla storia ci permette di evitare che quegli episodi come vedevamo nelle pagine prima del rovieto ardente la manna oppure le acque del Mar Rosso che si sollevano ecco queste immagini qui che vengano viste come una sorta di favola o magia come vi dicevo prima se noi andiamo a contestualizzare tempo luogo di quei popoli il livello che avevano di conoscenze anche dal punto di vista dell'ambiente naturale dei fenomeni allora possiamo dare delle spiegazioni che sono un pochino più verosimili questi personaggi diventano personaggi più storici la storia ci aiuta non possiamo far slittare i contenuti storici anticipare e quindi creare un'idea troppo fantasiosa perché verrebbe meno la forza proprio gli aspetti formativi salienti che noi possiamo trasmettere attraverso questi personaggi peraltro Mosè in classe quarta dove i bambini hanno una maggiore maturazione anche da un punto di vista psicologico una capacità critica un pochino superiore hanno già studiato hanno iniziato insomma le materie di studio nell'anno precedente sono anche in grado di fare delle riflessioni più significative con noi e quindi possiamo qui andare ad attualizzare alcuni aspetti collegarli alla realtà contemporanea mettere il bambino in dialogo con il mondo che lo circonda io personalmente lo faccio spesso con i miei alunni e questo in classe lo chiamo apriamo delle finestre sul mondo e ai bambini piace moltissimo perché? perché in quel momento il contenuto che gli andiamo a presentare diventa importante per il suo vissuto è aderente alla sua realtà e questo è il nostro compito incidere sul vissuto sulla crescita del bambino è il compito di ogni disciplina quindi anche della religione il te perché lo possiamo collegare alla realtà perché purtroppo è di grande attualità guardate il passaggio del Mar Rosso si può collegare al tema dell'immigrazione dei flussi migratori al tema dell'oppressione di un popolo su un altro di un capo che scatena la sua furia ingiustamente su un popolo che è costretto a fuggire quindi insomma ovviamente i collegamenti purtroppo sono immediati e molto molto attuali e si possono fare tanti altri riferimenti nelle pagine a seguire che stavamo vedendo prima ecco qui c'è il decalogo il decalogo questa legge a fondamento del vivere civile di questo popolo del vivere sociale questa legge che è uguale per tutti quindi nel popolo di Israele c'è una legge che affonda e che regola i rapporti di tutti anche di chi è capo del popolo che è uguale determina un principio di uguaglianza un rispetto di diritti e doveri per tutti nello stesso modo è ovvio qui che la finestra sul mondo è la Costituzione cioè qui la ganso possiamo farlo in maniera diretta e immediata alla Costituzione guardate quanto spazio possiamo dedicare a questa figura in quarta che valore alto che ha peraltro i bambini ritrovando nel libro di storia la figura di Mosè e parlandone con noi in classe quarta possono comunque loro stessi sollecitarci sollecitarci con tanti interrogativi curiosità perché sono ormai in quarta capaci comunque di cominciare a collegare i diversi insegnamenti quindi noi porteremo avanti questo discorso non c'è una discontinuità nel programma perché nello sviluppo insomma nell'ordine cronologico degli argomenti perché abbiamo rispettato in tutti e cinque volumi il principio didattico della progressione degli argomenti e della ciclicità quindi questi argomenti ritornano ogni anno con un livello di approfondimento con una prospettiva più ampia e come deve essere come è per ogni disciplina e cos'altro vi volevo dire no Carla scusami perché credo che ci sono ovviamente delle domande di alcune hai già risposto però se mi permetti posso aggiungere una cosa io perché c'è un insegnante che dice non è possibile non riesco a capire perché il programma lo splendido programma deve essere spezzettato tra terza e quarta non è possibile racchiuderlo tutto in terza e partire con i Vangeli in quarta allora io Carla vi ha dato tutte le spiegazioni didattiche io invece vi do un'altra spiegazione che per me è altrettanto vincolante noi editori ogni anno partecipiamo a un incontro in CEI con la persona responsabile dell'insegnamento della religione cattolica questa persona è stata fino a ottobre Don Saottini col quale abbiamo lavorato per più di dieci anni e Don Saottini da questo punto di vista era stato categorico nella necessità assoluta di allineare i libri dell'IRC ai programmi ministeriali lui ha sempre detto che si rendeva conto che ci fosse un disallineamento tra i programmi dell'insegnamento della religione cattolica e quelli di storia ma che questo disallineamento era dovuto a motivi di quando sono usciti i programmi di IRC e che lui si aspettava dagli editori che questa cosa venisse diciamo sistemata perché nell'ottica della CEI c'è anche quella di modificare i programmi in questa direzione quindi ci ha sempre chiesto di lavorare in questa direzione che è la direzione che secondo come vi ha spiegato Carla è anche quella più corretta dal punto di vista della maturazione degli alunni e delle possibilità che abbiamo con gli alunni di parlare di argomenti che loro affrontano già in altri in altri ambiti come quello del sussidiario e qui c'è anche un'altra insomma dice proprio per quale anche un'altra domanda per quale motivo molti editori mettono in classe terza io non so per quali altri motivi editori perché molti insegnanti sono ancorati ai programmi e quindi vogliono trovare quello che c'è nei programmi ma io vi assicuro posso anche mostrare i documenti che ci fornisce ogni anno la CEI che la richiesta è molto precisa da questo punto di vista infatti sempre più editori anche se si sono adeguati a queste richieste e anche per quanto riguarda la classe quinta ti faccio passare proprio l'ultima slide poi diamo la parola a Caterina abbiamo lavorato per un allineamento con la storia Carla vuoi spiegare come ci siamo mossi da questo punto di vista sì anche qui abbiamo voluto appunto creare un allineamento più forte con la storia rimodulando il programma di classe quinta proprio rimodulando gli argomenti quindi qui iniziamo scusate io mi prendo proprio il testo che dal monitor non mi è chiarissimo rimodulando gli argomenti quindi noi abbiamo iniziato dalla comunità cristiana oggi quindi dalla realtà che i cristiani che i bambini delle nostre classi dalla realtà attuale che vivono quella loro più prossima quindi dalla loro esperienza diretta per poi passare alle figure dei santi quindi al messaggio cristiano alle testimonianze di vita cristiana e poi dall'interrogativo qual è l'origine di tutto questo abbiamo introdotto la la nascita la diffusione del cristianesimo all'interno dell'impero romano quindi il tema delle persecuzioni dell'arte paleocristiana insomma tutti gli argomenti che conosciamo e riteniamo così che riusciamo a se non proprio ad agganciarci perfettamente alla storia perché ovviamente la religione ha le sue medie formative e non è che può farle venire meno per questo allineamento però siamo molto vicini più vicini sicuramente al momento in cui i bambini in classe quinta affrontano lo studio dell'impero romano e anche questo cioè io vorrei condividere con voi il fatto appunto vi dicevo io ma anche Caterina Basile che ha lavorato con me sono tanti anni che siamo nella scuola siamo insegnanti di religione abbiamo lavorato in tante realtà questi percorsi che ci sono nel libro non li abbiamo ideati così come il coniglio che esce dal cappello del mago scusatemi l'espressione insomma l'esempio però sono provati in classe noi li abbiamo sperimentati sono anni che li sperimentiamo e tutti i colleghi che poi si allineano a questa impostazione ci riferiscono di una soddisfazione nello sviluppo del percorso quindi si tratta solo di riorganizzare il nostro materiale didattico non ci vuole molto cioè non dobbiamo pensare che c'è una linearità dei contenuti è da tempo che è venuta da meno questa nella scuola ormai dobbiamo ragionare nella logica dell'ipertesto e noi non dobbiamo trasmettere la somma di nozioni ordinate ai nostri alunni non abbiamo più questo compito noi dobbiamo dare ai nostri alunni dei contenuti che siano fortemente formativi aderenti alla loro realtà aderenti al loro vissuto rispetto ai quali possono ragionare dobbiamo trasformarli in cittadini attivi in persone capaci di progettare il loro futuro al meglio non possiamo neanche perdere di vista quello che accade intorno a noi nel mondo la contemporaneità è tutto molto importante e tutti gli argomenti di religione noi possiamo rimodularli cioè io stessa ora in classe sto provando nuovi ancora nuovi percorsi perché è così dobbiamo metterci in gioco così faremo un altro libro noi siamo insegnanti abbiamo come così faremo un nuovo libro sì comincio a creare un po' di materiale nuovo sì 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 perché cioè noi dobbiamo sperimentare noi abbiamo la libertà di insegnamento che abbiamo noi la dobbiamo esercitare a pieno titolo voglio dire io vi confesso qui vi confido che non uso passivamente il libro così come l'ho realizzato con Caterina e con gli editori con Cristina come l'abbiamo concordato io lo uso in modo mobile diciamo così perché bisogna essere creativi nell'utilizzo dei testi quindi questo discorso all'idealità dei contenuti non ha cioè non funziona così con i bambini con l'apprendimento significativo forse è più ordinato per noi che mettiamo in campo i percorsi di apprendimento ma non non viene meno cioè non non è realmente formativo ed efficace che senso ha presentare una figura di Mosè anticipandola rispetto alla storia quindi vi invito a ecco anche a provare a provare almeno in una classe in una delle vostre quarte il prossimo anno e fate questa esperienza cioè magari anche entusiasmante come dire la creatività didattica poi è una una motivazione per andare avanti e completare questi 42 anni di servizio di cui abbiamo bisogno per l'interazione grazie Carla grazie mille grazie stata chiarissima chiedo a Caterina Basile di venire benvenuta Caterina grazie del tuo contributo prima di di parlare della insomma di questi argomenti che vogliamo affrontare insieme io e te volevo rassicurare che qualcuno chiede si può vedere più da vicino il QR eccetera dopo la presentazione di Caterina ci sarà la presentazione del digitale in più tutti questi materiali vi avrete a disposizione così potete eh eh poi eh sperimentare quello che volete o inquadrare il QR come volete avrete anche un saggio delle pagine del libro inoltre fatevi potete ehm guardare il libro digitale eh online perché è libero è possibile poi alla fine vi do anche il link per vedere il libro digitale inoltre eh nelle alette del libro potete ci sono tutti i QR per vedere l'anteprima di tutti i materiali digitali quindi ci teniamo a dire che eh vogliamo offrirvi una panoramica completa in modo tale che possiate apprezzare la ricchezza di tutto questo progetto ora do la parola a Caterina facendogli lanciandogli questa bellissima ehm percorso di cui siamo vero Caterina molto molto fieri è stata una una vostra proposta che abbiamo accolto con grande entusiasmo perché eh nel nostro libro e ormai in parecchi libri si trovano percorsi di arte eh eh sacra eh che ha insomma aiutano i bambini nella comprensione della della potenza delle immagini nei secoli ma avevamo fatto qualcosa di più grazie a voi abbiamo introdotto l'arte contemporanea all'interno di questi libri allora Caterina spiega ai nostri insegnanti alle nostre insegnanti qual è stata le motivazioni di fondo che ci hanno spinto a fare questa scelta che noi di cui ci siamo innamorati perfetto grazie Cristina allora intanto vi chiedo di bloccarmi se vado oltre perché voi sapete che io presenterò questi argomenti per chi mi conosce con la consuetà passione per cui può darsi che possa dilagare allora intanto c'è una breve una breve presentazione anzi bisogna ecco come diceva Cristina Scalabrini chiarire un po' le motivazioni che ci hanno spinto a introdurre questa novità questa novità che secondo noi che ci ha entusiasmato tantissimo dell'introduzione dell'arte contemporanea in un quaderno di scuola primaria ma in realtà se noi andiamo a vedere il curriculum di arte immagine che i bambini seguono nella scuola primaria noi inevitabilmente ci ritroviamo ad incontrarci con dei nomi che sono i nomi delle avanguardie pittoriche del novecento pensiamo per esempio a Mondrian con le sue forme geometriche colori primari le linee pensiamo per esempio a Picasso al suo astrattismo un astrattismo che addirittura qualcuno ha definito drammatico Magritte Miró Matisse sono quegli autori le cui opere vengono presentate con maggiore o minore consapevolezza da parte delle insegnanti a volte è dubito di questo che vengono presentate comunque ai bambini perché sono di facile realizzazione perché possono diventare dei modelli ma soprattutto perché lavorano come fa il bambino quando disegna sull'emozione cioè il bambino quando disegna trasferisce nel disegno attraverso delle linee essenziali a volte appena accennate a volte decisamente astratte trasmette le proprie nozioni il bambino si riconosce nell'arte nell'arte contemporanea nell'astrattismo in particolare tra l'altro è facile da comunicare ci sono tantissimi materiali io facendo un piccolo studio che sto facendo per un evento che probabilmente si realizzerà sul territorio di Roma sto approfondendo delle cose che mi hanno fatto scoprire un mondo di artisti contemporanei che lavorano che sono ispirati dalla religione dal sacro sebbene un altro motivo per cui noi dovremmo presentare i bambini dell'arte contemporanea è il fatto che ultimamente ci sono un paio di pubblicazioni che addirittura dicono che la religione o il sacro non ha più niente da dire all'artista perché è diventato un fatto intimo un fatto personale e onestamente io non sono d'accordo su questa cosa proprio perché specialmente in Europa ma in particolare in Italia c'è invece una vivacità di ispirazione notevole poi vabbè comunque quello è tutto un discorso che approfondiremo in altra sede e se facciamo riferimento per esempio a Kandinsky il quale dice che l'artista è l'unico che ha la possibilità di illuminare l'ineffabile e per l'ineffabile rimando proprio all'etimologia della parola ciò che non può essere detto perché l'artista lo illumina e contemporaneamente lo lascia nel silenzio cioè l'ineffabile rimane ineffabile quindi non detto ma viene illuminato dall'artista attraverso l'astrattismo per esempio per Kandinsky l'astrattismo è l'unica l'unica via per poter parlare di ciò che non può essere detto e questo venne poi affermato voi lo sapete visto che abbiamo fatto questo tipo di studi tutti quelli che insegniamo religione venne affermato da Paolo VI nell'incontro che lui ebbe con gli artisti dicendo proprio che la chiesa ha bisogno dell'arte ha bisogno degli artisti noi cosa facciamo? noi che abbiamo una formazione classica amiamo presentare appunto dei modelli di arte classica partiamo dal del bizantinismo arrivi a Magiotto quindi tutto il medioevo il rinascimento Michelangelo Caravaggio che sono autori che sicuramente sono ricchi di simboli e di storia e di bellezza io sono innamorata dell'arte classica però sono modelli inarrivabili noi ne conosciamo la simbologia possiamo parlare tanto di questi artisti però continuando a presentare questi artisti del passato che pure fanno parte delle nostre radici e sono ineliminabili dal percorso dal percorso didattico che noi facciamo sembriamo quasi un po' dire confermare sì è vero l'arte contemporanea non parla più con la religione non parla più con il sacro in realtà non è così ci sono degli esempi veramente splendidi e l'autore che noi presentiamo Piero Augusto Breccia è uno di questi esempi splendidi allora pensate che il nostro autore ora vi do alcune indicazioni molto generiche molto veloci eh il nostro autore era un cardioquirurgo ehm un cardioquirurgo che tra l'altro eh era a soli trentasei anni eh professore associato eh all'Università Cattolica al Policlinico Gemelli lavorava a Policlinico Gemelli come cardiopirurgo ha fatto più di mille interventi a cuore aperto tra l'altro era a sua volta figlio di un medico però mh fin da giovane eh questo ragazzo aveva ovviamente eh una diciamo un spirito un cuore più portato per le materie letterarie pensate che a solo 16 anni ha pubblicato per la casa editrice Signorelli una traduzione dal greco dei dialoghi platonici cioè già semplicemente dire questo ci fa capire che cosa ehm albergasse in quell'animo in quella mente straordinaria però lui seguendo le orme paterne diventa un medico anche lui quindi gran parte della sua vita la dedica una buona parte della sua vita la dedica proprio a questo aspetto alla medicina scrive tantissimi articoli più di 50 su riviste mediche cosa succede ad un certo punto nel 79 muore il padre questo potremmo dire dal punto di vista psicologico e significativo perché proprio quello è il momento in cui la pittura che prima era semplicemente un piacere personale diventa eh qualcosa di estremamente di preponderante nella sua vita tanto che lui prenderà un'aspettativa e eh si rivela un'artista di tale spessore che si trasferisce in America dove fa delle mostre d'arte delle sue opere tra le più grandi città americane quindi insomma è un artista che miete successi sia negli Stati Uniti e poi in Italia dove viene richiamato quindi la sua non è una pittura inconsapevole dal punto di vista teologico anzi è molto densa lui ama la filosofia nel frattempo delinea anche quella che sarà poi la sua cifra stilistica per cui pubblica quello che è considerato il manifesto della sua particolare opera pittorica lui dice di essere il maestro il fondatore della pittura ermeneutica ora non pretendiamo di trasferire questi contenuti e queste conoscenze ai nostri alunni perché vi dico la verità non servono cioè non è che l'insegnante che fa arte immagine sa veramente bene che cosa sia il surrealismo da dove nasce che nasce dal dadaismo cosa è il dadaismo a sua volta tutte queste cose non le diciamo i bambini ma mettiamo l'opera d'arte e alcune notizie biografiche sull'artista le mettiamo a disposizione del bambino lasciandogli il tempo di interpretare il dato allora è proprio questo che fa breccia della sua pittura ermeneutica lui dice sebbene possa sembrare un artista figurativo perché noi ora vedremo anche successivamente alcune lui figura cioè disegna la figura e tra l'altro a volte con una precisione geometrica poi vi faccio vedere successivamente in realtà la sua è una pittura di interpretazione del dato cioè lui il dato il fatto che può essere un fatto evangelico biblico un dato reale lo interpreta ma lo lascia anche all'interpretazione del fruitore cioè chi guarda il quadro entra in sintonia con il pittore e attribuisce a quello che vede un'interpretazione che scaturisce dall'emozione ecco è un po' un surrealismo figurativo possiamo dire anche se non esiste è una cosa che modestamente sto dicendo io in questo momento è un figurativo che utilizza alcune cose di base del surrealismo ora per esempio possiamo vedere che l'impatto del colore e del simbolo è potente per esempio questa è un'opera che noi abbiamo inserito nella classe prima e rappresenta la creazione il momento della creazione questa cosa che noi troviamo costante in Piero Augusto Breccia è questo sfondo nero il nero che non è nulla attenzione il nero rappresenta l'universo rappresenta l'insondabile quindi per certi versi rappresenta l'eterno e rappresenta ciò che appare nero a noi ma che è puntelato di luci guardate le stelle bianche le stelle che poi sono piccoli punti bianchi di luce pura di bianco puro assoluto quel nastro che ondeggia nell'universo è la parola è la parola di Dio che si dipana nell'universo che esce da questo profondo mistero che è l'essenza di Dio e crea la parola che crea dalla parola vedete scendono dall'alto delle gocce ma anche delle forme e queste forme scendono fino a terra questa terra che è rossa in tutto il rosso della sua potenzialità il rosso della carne il rosso del sangue da questa terra cominciano a formarsi delle figure e al centro c'è una fontana l'acqua l'acqua che è evocativa di tante cose è una simbologia importantissima nella religione ma in tutte le religioni dall'acqua escono fuori due figure che si possono riconoscere che sembrano danzare vedete che ci sono due forme rotonde che sarebbero le teste sono l'uomo e la donna quindi dall'acqua emergono due figure che danzano che si intrecciano che sono in primo piano e che sono più grandi di tutte le altre figure sebbene indistinte si distinguono dalle altre figure e dietro e dietro c'è un disco solare che non è sole perché vedete non è sole ma è luce è una luce che emana un calore infatti è una luce gialla che si riversa il giallo della parola che si riversa sulla terra è una luce creativa è una parola che crea ed è una ruggiada che irriga tutto il mondo ecco come vedete il bambino che spesso si ritrova a utilizzare questi colori così allegri così piacevoli così vivaci può facilmente riconoscere la simbologia che è presente in questa opera Cristina se mi mandi avanti la slide Caterina ti invito a guardare l'ora perché te lo devo ecco anche perché io poi voglio fermarmi un attimo sul ResurExit che è quella allora qui vediamo ecco le campane le campane qui per esempio sono solo suono e all'interno c'è queste campane sono animate da delle corde che non partono dalla costruzione ma partono dal cielo da quel profondo nero di cui vi dicevo poco fa quindi sono è un suono di gioia di resurrezione che però nasce dall'alto è un suono che arriva fino a noi ma è nato altrove vai avanti Cristina grazie ecco qua c'è un'annunciazione non so se riuscite a vederla bene ma quella è spettacolare c'è un angelo l'angelo che riconosciamo dalle ali fondamentalmente se non da un altro elemento che è un angelo senza volto perché quell'angelo posa sulla terra ma non è della terra infatti poggia sulla terra soltanto una piccolissima parte non ha i piedi e sulle sue ali da un lato nella parte iniziale c'è la stella di David dall'altro lato c'è la croce quindi nell'angelo è in quel momento che l'annunciazione si ricompone tutta l'economia della salvezza dalla stella di David alla croce e da un lato Maria creatura dall'altro lato Maria anfora da un lato Maria che offre la sua natura dall'altro lato Maria che accoglie e accoglie uno germoglio perché l'angelo fa cadere nell'anfora un germoglio già fiorito quindi non è un seme che getta lì dentro ma qualcosa che è già fiorito perché è già fiorito nella volontà di Dio vai avanti questa è molto bella tra l'altro questa era una di quelle immagini che facevano parte di una mostra cioè che presentavano una mostra di Augusto Breccia una mostra che si è tenuta qui a Roma e rappresenta la città ideale la Gerusalemme celeste la Gerusalemme perfetta dove ci sono tanti edifici che possono assomigliare a delle chiese ma non hanno simboli religiosi perché si è realizzata nella Gerusalemme perfetta si è realizzata l'unità non c'è più bisogno di mettere delle croci mettere dei simboli ebraici o musulmani perché c'è l'unità e in quel arcobaleno che finisce con il bianco assoluto e nel bianco assoluto simboli misteriosi che sono le parole di Dio quindi su tutto a legge alla colomba che va verso la luce è una colomba che ovviamente è lo spirito santo ecco volevo fermarmi un attimino se mi concedete qualche minuto su questa opera Resurrexit di Breccia che è tuttora esposta al Policlinico Gemelli e Breccia fece senza nessun obbligo di committenza in pratica fu un'ispirazione sua personale e venne inaugurata da Giovanni Paolo II che rivolse all'autore delle parole commosse quindi diciamo che è stata un po' la benedizione che il Papa dette a questa interpretazione che Breccia fece ci sarebbe da parlare un'ora su questa opera sulla sua assoluta simmetria sulle strutture geometriche che sono alla base però voglio farvi notare soltanto queste piccole cose da un lato il disco bianco in alto se noi tracciamo una linea a partire dal vertice di questo disco fino alla base dei soldati che si trovano a terra su questa terra spaccata dalla resurrezione del Cristo da cui l'umanità vuole emergere e si rivolge a Dio si forma un triangolo il triangolo perfetto che ingloba il disco bianco che è il padre il figlio che ha le braccia a forma di croce e questo manto azzurro che rappresenta lo Spirito Santo quindi la Trinità che in maniera perfetta incontra il mondo perché a base della Trinità c'è il mondo ci sono questi animi non c'è un sepolcro non è è il mondo aperto la resurrezione ha aperto il globo e da questo globo gli uomini escono perché aspettano la resurrezione perché aspirano alla resurrezione e in questa figura per esempio l'unico che guarda verso il disco bianco è il figlio neanche gli angeli guardano quella luce ma solo il figlio guarda il padre e una piccola cosa ancora qualche minuto se voi vedete torno un attimo indietro il corpo di Cristo da un lato ha la forma della croce da un altro lato sembra che il corpo di Cristo sia la base di una di un calice vedete possiamo seguire la linea delle sue braccia a livello degli angeli trarre tirare una linea e un calice da cui emerge un'ostia il bianco dell'ostia quindi Cristo qui è corpo e sangue trinità e offerta e sacrificio va bene Carla ci chiedono se queste letture che tu hai fatto si trovano si trovano da qualche parte allora c'è ogni immagine di breccia fruibile attraverso un'immagine commentata col QR ovviamente proiettabile sulla lima e poi in guida abbiamo dato spiegazioni su tutte queste cose io sono un po' in imbarazzo Caterina perché adesso mancano te l'ho detto scusatemi sono le 7 meno 5 e avevamo ancora da presentare tutto il percorso di educazione civica quindi allora io lascerei questa questa ultima opera in sospeso così gli autori scusa i nostri insegnanti se la guardano nel libro digitale che ho messo anche in chat comunque possono andarlo a trovare sul nostro sito e se vuoi proprio dire a volutuccello due cose su l'educazione civica e poi è quella che noi l'educazione civica non c'è mai soluzione di continuità con il percorso didattico vero e proprio quindi il percorso didattico specifico degli RC rappresenta uno stimolo per parlare di quella tematica che è una tematica che i bambini la classe questa classe che noi abbiamo immaginato vive quotidianamente però una cosa importante da dire è anche questa che da un lato queste pagine sono in un continuum assolutamente coerente con quello che stiamo dicendo da un altro lato però se noi abbiamo bisogno di utilizzare quella pagina in un altro contesto ora ad esempio io il giorno della memoria il 27 gennaio voglio utilizzare una pagina la pagina che parla quella specifica che parla di Anna Franchi io posso se voglio estrapolarla da quel contesto utilizzarla in quel giorno senza che essere legata alla pagina precedente cioè paradossalmente da un lato c'è una continuità assoluta da un altro lato io posso offrire delle mie pagine come meglio credo ecco per esempio faccio vedere quella di Anna Franchi esatto per esempio si parla della libertà religiosa del fatto che ci furono le persecuzioni quindi la libertà religiosa e a fianco a libertà religiosa si parla di un periodo tremendo drammatico della nostra storia in cui questa libertà non era non era assolutamente accettata ma se io voglio io prendo quella pagina ricordare un dovere la utilizzo il 27 gennaio il giorno della memoria non interrompe niente e non ho bisogno di fare ciò che c'è prima quindi abbiamo pensato a dei percorsi di educazione civica assolutamente coerenti con quello che stiamo portando avanti ma anche fruibili in un contesto diverso dove l'insegnante con la sua creatività con la sua intelligenza ritiene meglio poterli utilizzare un'ultima cosa che ti chiederei di spiegare sono i personaggi anche diciamo moderni che abbiamo messo assolutamente sulla via del cedro e poi lasciamo la parola abbiamo pensato di fare riferimento dei personaggi dei quali è possibile parlare o ascoltare anche al telegiornale perché è necessario che i bambini noi cosa vogliamo dare a questi bambini vogliamo dare l'idea che la religione o meglio il sentimento religioso il sentimento di solidarietà di amore di altruismo che nasce non solo dal sentimento religioso ma dall'etica profonda dell'essere umano è vissuta pienamente da persone concrete persone che non sono santi non è necessario essere martiri ed essere scorticati vivi per essere santi o per fare qualcosa che sia coerente all'angelo ma ci sono delle persone che stanno vivendo hanno vissuto una vita piena nel contesto sociale nel quale erano inserite ma anche persone laici addirittura persone che non si sono dichiarate cattoliche ma che hanno vissuto questi valori altissimi che sono valori insegnati da Gesù come per esempio il cagino strada non si dichiarò mai un credente ma ha fatto come il figlio della vigna nonostante avesse detto al padre non voglio andare a lavorare la vigna poi ci è andato lo stesso quindi chi è che ha fatto la volontà del padre ecco persone che vivendo una vita piena nel contesto in cui sociale contemporaneo però sono persone sono testimoni testimoni di cosa? di valori questi valori che sono stati insegnati da Gesù che non appartengono quindi al passato ma appartengono alla vita all'universalità dell'uomo del pensiero dell'uomo benissimo Caterina guarda mi spiace di doverti togliere la parola io adesso chiedo a Nicola Nicola di venire ecco Barzali grazie Nic scusa se ti abbiamo rubato manca ancora un minuto ce la facciamo no dai credo che ci concederanno di sforare del tempo dedicato al digitale perché so che gli insegnanti di religione cattolica amano tantissimo il digitale e l'abbiamo curato se è possibile con ancora più passione che in altre opere vai Nicola grazie grazie a te allora buonasera a tutte e tutti anche da parte mia andrò un po' velocemente ma insomma su qualche punto magari ecco ci tengo a dare qualche istruzione e spiegazione in più soprattutto su questa avete visto nelle slide che vi hanno presentato le autrici e Cristina tantissimi QR code questo perché ovviamente noi pensiamo che il QR code sia uno strumento utile per voi che vi faccia raggiungere i contenuti inquadrando semplicemente la pagina col cellulare quindi non esiste modo più veloce una domanda che ci fanno però ogni tanto è questa però se io ho i contenuti solo sul QR code non li vedo dal computer non li vedo sulla LIM ecco per fortuna la risposta è semplice no il QR code è soltanto un'agevolazione perché poi tutti quanti i contenuti sono anche nel libro digitale come vedete qua in questa slide c'è questa manonna che indica il pulsante che vi mostrerà tutti i contenuti digitali vado avanti mostrandovi un'altra funzionalità nuova del libro digitale che è quella delle soluzioni in pagina adesso questa mi scuserete questa è una pagina di un altro volume ma il funzionamento è esattamente lo stesso cliccando sul tasto mostra soluzioni vediamo in pagina tutte quante le soluzioni degli esercizi quindi anche in questo caso con un clic per voi insegnanti è più facile vedere le soluzioni tutte quante già svolte andiamo poi nel concreto dell'opera in questa slide ho elencato tutte le varie tipologie di oggetti digitali che troverete qui sulla sinistra già avrete notato se avete iniziato a leggere un po' quanta importanza abbiamo dato anche sul digitale per quanto riguarda l'arte vedete che sono i video dedicati alle letture d'opera di Arte Sacra le immagini interattive dedicate all'arte e poi novità assoluta di quest'anno un'app che appunto leggete qua Abart Arte Sacra che vi mostrerò fra qualche fra qualche istante e che di fatto è una biblioteca di opere d'arte digitali comunque non mi dilungo troppo adesso perché ve la mostrerò quindi potrete vedere e sicuramente vederla sarà più efficace come sempre abbiamo in digitale l'audio che è una lettura delle pagine del testo inclusi anche i volumi PES le mappe modificabili gli esercizi interattivi insomma questi sono oggetti che magari conoscete di più sono oggetti un po' più classici per il docente poi sempre raggiungibili dal QR code abbiamo tutti i materiali legati alla guida come la guida in formato stampabile la programmazione le verifiche modificabili insomma anche in questo caso sono oggetti un po' più classici e quindi non sto a dilungarmi troppo un aspetto magari più interessante su cui spendo due parole sono i QR code nella lette che appunto vi facilitano ancora di più quando dovrete trovare dei video oppure delle immagini interattive insomma inquadrando le alette potrete raggiungere immediatamente questi oggetti quindi andiamo un po' nel concreto magari per quanto riguarda i video ho preparato due slide ma insomma l'invito che vi faccio è quello di andare sul nostro canale youtube dove troverete tantissimi di questi video oppure anche nel libro digitale di cui Cristina vi ha condiviso il link e troverete degli esempi di video in questo caso qua abbiamo una lettura d'opera che però questo video non fa solo il compito di leggere e spiegare l'opera d'arte ma crea appunto un contesto dà delle informazioni biografiche anche dell'autore adesso metto l'audio ecco adesso non vorrei rubare troppo tempo però come vedete sono dei video colorati con delle grafiche insomma moderne che leggono l'opera d'arte ma fanno anche un'introduzione una spiegazione del movimento artistico dell'artista e quindi sono dei percorsi un po' così autoconsistenti i video però non toccano solo le opere d'arte ma riguardano anche le biografie dei personaggi storici oppure le vite dei santi in questo caso come esempio ho scelto il Dalai Lama per farvi vedere un altro stile di video anche questo colorato che si rifà un po' lo stile delle polaroid vado un po' più avanti per mostrarvi qualche qualche altra immagine come vedete anche in questo caso c'è una voce narrante che spiega che spiega la vita e insomma anche colloca geograficamente il personaggio storico di cui stiamo parlando le immagini interattive poi sono queste 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 immagini che abbiamo arricchito con dei punti che chiamiamo hotspot che sono dei punti dove come vedete nel video dimostrativo cliccando andiamo ad esplorare insomma a leggere qualche qualche curiosità però queste queste immagini interattive sono in realtà dei percorsi anche in questo caso dei percorsi completi perché sta caricando perché ovviamente oltre ad esplorare i dettagli dell'immagine quindi della fresco andiamo a ricostruire anche la vita dell'autore andiamo a dare delle curiosità ma trattandosi di oggetti online possiamo anche andare a muoverci nel web e quindi raggiungere in questo caso il luogo fisico di dove si trovano le opere d'arte scusate e in questo caso vedete che c'è un'esplorazione a 360 gradi appunto degli affreschi insomma dell'uomo la cappella degli scorveni la cappella degli scorveni sì certo e in chiusura vi mostro anzi penultimo argomento appunto Abarth arte sacra questo strumento come vi come vi dicevo poco fa è nient'altro che un raccoglitore di opere d'arte e qual è il valore aggiunto di questo di questo oggetto beh intanto raccoglie tutti i video e le immagini interattive legate alle opere d'arte ma in più attraverso appunto dei pulsanti di ricerca vi consente di trovare magari tutte le opere di Giotto quindi se vogliamo fare una una lezione dedicata solo a Giotto e magari ho un'opera in classe prima un'opera in classe terza adesso Cristina non so se è così perdona ma insomma non mi ricordo più dove era la pagina dedicata a Giotto attraverso questa questa app posso andare a ritrovare tutte le letture di quell'artista qua ho messo pausa perché come vedete questa è la visualizzazione da smartphone quindi anche in questo caso l'accesso all'app è doppio sia da da computer quindi accesso un po' più classico che dal che usando il cellulare o il tablet se vogliamo avere immediatamente questo è molto utile se volete preparare le lezioni per esempio voglio dire ovviamente lo metterete sulla LIM quando siete in classe ma se dovete decidere cosa mostrare ai ragazzi eccetera lo potete fare in qualsiasi momento dal vostro smartphone esatto esattamente e come vedete un altro dettaglio la suddivisione anche per il calendario e poi per antico nuovo testamento quindi abbiamo voluto dare anche questa ulteriore suddivisione per facilitare anche un po' il movimento in questa chiudo questo è l'ultimo argomento di cui volevo parlarvi con il Devoto Oli Junior come funziona allora intanto nel libro digitale abbiamo integrato il dizionario quindi adesso vi mostrerò come funziona ma tutte le parole del libro che trovate nel libro digitale del libro che trovate su Opio Scuola sono appunto legate anche al Devoto Oli e ovviamente però non si ferma qua la funzione del Devoto Oli ha tutta una sua sezione nel sito web dedicato dove trovate le schede con le soluzioni attività interattive insomma tanti altri approfondimenti giochi interattivi quindi questo per quanto riguarda il sito ecco un esempio appunto torniamo sul sul libro digitale qua ho preso una pagina a caso del libro ho evidenziato la parola parola e appunto cliccando col tasto destro e poi dizionario come vi mostra sempre la manona andiamo a vedere la definizione quindi in questo caso siamo già nel dizionario quindi è veramente facilissimo basta un clic anche con tutte le espressioni con cui si usa quella parola i contesti i modi di dire le particolarità diciamo grammaticali questo anche molto utile anche per i bambini stranieri o comunque di ambito non italofono ecco assolutamente e ci spostiamo poi nel sito che appunto è facilmente ricordabile devoto alijunior.it dove troviamo appunto questo è un esempio dei giochini che potete trovare questo è un drag and drop quindi un trascinamento lo scopo dell'esercizio è quello di associare il verso all'animale giusto quindi attraverso il trascinamento appunto niente di più semplice facciamo il nostro gioco e poi dopo c'è il feedback per vedere se abbiamo indovinato o no un'altra sezione che io personalmente trovo molto interessante anche perché si scoprono cose nuove che io non sapevo è questa della famiglia di parole come vedete qua sulla sulla sinistra c'è una lista di vocaboli cliccando sul vocabolo si apre la ruota dell'etimologia possiamo chiamarla così e in questo caso per esempio sbagliato se vedete l'ultimo l'ultima voce sulla destra vedete che tornando indietro deriva da da bagliore quindi io non lo sapevo chissà poi quante cose anche si scoprono quindi questa è un'altra funzionalità che trovate nel sito del Devotoli Junior io ho concluso e credo di lasciare di nuovo la parola a Cristina sì ok grazie se mi danno di nuovo le slide per le ultimissime cose grazie volevo dirvi appunto che vado avanti perché allora qui troverete la modalità per accedere al libro digitale online per poterlo sfogliare ma comunque chiedete ai vostri rappresentanti di portarvi il libro e potete consultarlo abbiamo tantissimi appuntamenti anche per la settimana prossima per parlare con gli autori per parlare di educazione motoria per il coding ancora la valutazione quindi vi aspettiamo sempre per degli appuntamenti per un confronto con voi vi ringrazio anche per tutte le domande che ci avete fatto e chiudo questo incontro molto intenso ringraziando Nicola per averci mostrato queste magie che sono sempre entusiasmanti e le mie carissime autrici perché ormai possiamo dire che abbiamo consolidato un'amicizia perché non so da quanti anni lavoriamo insieme credo quasi 20 non lo so però non voglio non voglio dirlo perché comunque mi sono utili i capelli bianchi ma non per colpa vostra abbiamo contribuito lo sappiamo insomma diamo questo libro ai nostri insegnanti alle nostre insegnanti affinché lo possano valutare noi l'abbiamo fatto con grandissimo entusiasmo come ci caratterizza insomma sempre nel nostro lavoro abbiamo cercato di darvi degli stimoli nuovi perché sappiamo anche che è importante anche per per voi trovare delle nuove strade come diceva Carla anche per affrontare temi che fate da anni e soprattutto abbiamo pensato ai bambini e alle bambine direi perché abbiamo voluto dare a loro uno strumento ricco moderno che possa dare a loro una via per approfondire una ricerca anche spirituale e ritrovare una propria strada e dei propri valori grazie grazie di essere stati insieme oggi stasera grazie a tutti gli insegnanti e gli insegnanti che hanno partecipato e non so lascia la parola se qualcuno possiamo posso solo un secondo approfittare di questa occasione per ringraziare noi vorremmo ringraziare anche qui pubblicamente la famiglia del maestro Breccia che ci ha permesso di inserire le sue opere di portare in classe le opere del maestro appunto noi lo ringraziamo molto tu sai che Cristina è un desiderio che avevamo da diversi anni e quindi questa disponibilità per noi siamo molto grade di questo molto e ci emoziona molto poter far conoscere ecco ai colleghi e ai nostri bambini il mondo di Breccia il mondo artistico di questa persona uomo molto mite molto umide molto dolce un maestro medico e maestro maestro d'arte sì devo dire che è stata proprio una bella scoperta estremamente interessante di grandissimo impatto ecco l'angelo sulla città su Gerusalemme benissimo grazie ancora a tutti Caterina vuoi aggiungere qualcosa anche tu? no mi piacerebbe ecco approfondire perché vedo che grande curiosità non è semplice sebbene appaia semplice non è semplice c'è una densa conoscenza filosofica dietro le sue opere quindi sarebbe bello chissà ecco diceva Carla facciamo webinar solo su Breccia perché no perché no per Caterina di sei ore di sei ore sei ore e mezza almeno io ecco magari possiamo proporre di fare delle pillole diciamo così su ogni opera magari dedicata a chi adotta no? potremmo fare cioè come post adozione potremmo offrire ai nostri insegnanti alle nostre insegnanti per quelli che hanno adottato prepariamo delle pillole ovviamente ogni prima classe prima poi classe quarta e poi nelle classi successive in modo tale che gli insegnanti abbiano degli strumenti raccontati dalla viva voce di Caterina che è sempre impagabile insomma per la sua cultura sconfinata la carta ecco qualcuno mi dice voglio una carta dove si scriva bene tutti i libri sono su carta uso mano che è una carta apposita dove i bambini possono scrivere a matita e cancellare perché sappiamo anche la necessità di sbagliare e poter poter cancellare assolutamente tutti i libri è stata una decisione insomma anche complessa perché con la carta uso mano i colori perdono di brillantezza ma grazie ai nostri stampatori che ha selezionati apposta per stampare dei libri con delle opere d'arte e che non perdessero qualità d'immagine per cui anche da questo punto di vista vi diamo la massima garanzia che la casa editrice ha cercato di fare insomma il meglio per gli insegnanti e gli alunni benissimo grazie a tutti arrivederci e buon appetito buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie grazie a tutti Grazie per la visione!